Finisce 3 a 1 la partita di questa sera Una partita dove nel primo tempo avete giocato Però siete andati sotto nel secondo tempo Dopo che avete subito il 2 a 0 Ci avete comunque provato Però ti chiedo cos'è mancato oggi Allora, cos'è mancato? È mancato solo il gol Anzi, i due gol successivi per poter parigiare la partita E poi un altro per poterla vincere Il gioco c'è stato Abbiamo messo giù cattiveria, agonismo E quindi su questo non possiamo recriminare niente È stata veramente dura I difensori erano tosti oggi Infatti ho corso come un dannato Ma tutta la squadra oggi Veramente siamo stati bravi tutti Quindi il risultato per me è beffargo Sì, guardando il vostro score Avete con oggi solo 7 gol fatti Potrebbe essere quel il vostro problema In fase offensiva soprattutto Sì, i gol si fanno Creando le azioni dalla difesa Centrocampo e poi la definizione appunto in attacco Oggi mancava la seconda punta quanto a me Quindi ho dovuto fare reparto da solo oggi Che altro dire? No, veramente Oggi secondo me abbiamo giocato bene Loro sono forti Potevamo fare di più in zona gol Però va bene Io personalmente sono soddisfatto Dei miei compagni Sì, la prossima partita vi vedo affrontare il Vittoria Che è la capolista Può essere una motivazione in più Dato che sono la capolista per rialzarvi Se giochiamo come oggi Possiamo dire la nostra Assolutamente Va bene Grazie mille In bocca al lupo per il campionato Grazie mille